Il Signore sia con voi, preghiamo, la Tua parola Signore santifica tutte le cose e fondi la Tua benedizione su questa immagine della Vergine Maria perché coloro che se ne serviranno il rendimento di grazie per intercessione di Maria possono sperimentare la salute del corpo e dello spirito. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta, preghiamo, 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 preghiamo. Prea per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amico. Nostra Signora di Fatima, prea per noi, beato Francesco e Giacinta, prea per noi. Ecco ora innalziamo e iniziamo questo momento di preghiera che ci prepara un po' al primo centenario dell'apparizione a Fatima con una salve Regina alla Madonna. Salve o Regina, madre di Signore, con la vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, adesso, i figli di Eva, a te sospiriamo, genete, genete, in questa vita. Allora iniziamo e iniziamo il langone. Ossù ancora, ovcato nostra, in oggi a noi di noi, in oggi a noi, in oggi a noi, in oggi, a noi, 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 a noi. E mostro cilotto questo figlio, Gesù, in tutto il prefetto del sede, a noi, a noi, a noi, a noi, a noi, a noi, a noi. Ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Dal cielo è vicenza, a chiedere in preghiera, per i grandi peccatori, con te desidera. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. In questa misera valle infelice, tutti invocano soccorritice. Tutti ti invocano soccorritice, questo bel titolo conviene a te. O Santa Vergine, prega per me. 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 Pianca come la luna. E le stelle le più belle. Pianca come la luna. O Santa Vergine, prega per me. Pianca come la luna. Grazie a tutti. 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 Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tu non era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Prega per noi, Maria, prega per noi, Maria, prega per i figli tuoi, madre che tutto puoi, abiti noi piega. Grazie a tutti. Nel primo mistero doloroso si contenta la concepizione e la morte di Gesù. Ave Maria, prega per noi, Maria, prega per noi, Maria, prega per noi, benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, prega per noi, 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 Maria, pre Il tuo seno è Gesù. Santa mia, il mio prego, il mio santo, come era nel principio e sempre, nei secoli, nei secoli, amè. O Gesù perdona le nostre corbe, preservaci dal cuore dell'inferno, porta in cielo le amiche, l'ascuente del male, vigne e gloria, vita, dolce, esperanza nostra. Salve, salve Regina, salve Regina, esperanza nostra. Salve Regina Salve Regina Salve Regina a rassati e vivono più piccoli che agisce in tanti effetti credo che sia anche a questo un bel altro momento il messaggio per la mamma conosciamo tutti che si concuenta soprattutto da un uomo la preghiera della preghiera è che ci sia bisogno di tutte queste cose allora arrivederci il Signore sia con voi e con voi vi benedica Dio ripotente Padre e Figlio e Spirito Santo si concludiamo con il canto Madre io vorrei e con l'invito alla conversione con il Dice aprire il nostro cuore al Signore proprio mettendo in pratica quello che è l'invito della Madonna e del Pastore lo sentiamo io ora vado a parlare con te di quel figlio che è l'invito della Madonna che è l'invito della Madonna e di quel figlio che è l'invito della Madonna e di quel figlio che è l'invito della Madonna e di quel figlio che è l'invito della Madonna sarebbe successo di lui e quante volte anche tu ti nascosto ti angeli Madre quando sentivi che presto l'avremmo che è l'invito della Madonna e di quel figlio di cui è l'invito della Madonna Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Grazie a tutti.